Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Eminem, 51 anni, diventa nonno. La sua figlia maggiore, Hailey Jade, nata dalla relazione con Kimberly and Scott, è incinta del suo primo figlio. L'annuncio della gravidanza è stato svelato nel nuovo video musicale del rapper, intitolato Temporary. Nel video, Ailey sorprende il padre regalandogli una maglia dei Detroit Lions, la squadra di cui Eminem è tifoso, con la scritta Grandpa e il numero uno. Visibilmente emozionato, il rapper mostra poi un'immagine dell'ecografia. Il videoclip ripercorre momenti significativi della vita di Eminem e Ailey, culminando nel suo matrimonio con Evan McClintock, celebrato a maggio. Eminem ha dedicato la canzone alla figlia, dichiarando che la scritta per darle forza anche quando lui non ci sarà più. Dopo l'uscita del video, Ailey ha condiviso su Instagram una tenera foto con il marito, accompagnata dalla didascalia, mamma e papà, 2025, annunciando così la loro nuova avventura come genitori.